ho privato della boccia mandorle nocciole e noci da pulite sono circa 200 grammi adesso in un pentolino vado a mettere 4 cucchiai di miele e lo vado a scaldare quando il miele si è scaldato vado ad inserire all'interno la frutta secca giro qualche minuto e spengo il gas dopo qualche minuto trasferisco la frutta in una teglia che ho messo sotto della carta da forno lo dispongo bene con un cucchiaio e aspetto che si fredda quando si è ben freddato lo chiudo nella carta da forno e lo metto un'ora nel freezer dopo un'ora si è solidificato adesso non ci resta che porzionarlo io lo taglierò in quattro con un coltello non ci resta che per la carta da forno e non ci resta che per la carta da forno e lo